E' arrivato anche Giacomo Lauro, effetto camomilla, allora che piacere, tutto bene? Buonasera, tutto bene, tutto bene, come sempre non poteva mancare, diciamo, Villa Cupido come ogni volta, io sono onorato e felicissimo di essere qui. E' anche fedelissimo. E' anche fedelissimo. Allora, tu oggi che cosa ci canterai? Ho cantato un pezzo, è uno degli ultimi, non è nuovissimo, che si chiama Tu si fatti per me. Che è molto bellino, che tra un po' l'andrò a cantare. Bene, dedicato a tutte le tue fan, no? Dedicato alle mie fan, a tutti i miei simpatizzanti. Ecco qui, ecco qui. Non ho fan, non ho simpatizzanti. E' molto umile, è molto umile il nostro amico Giacomo. Allora, vogliamo anche parlare di questo lavoro discografico? C'è in preparazione questo lavoro discografico, che non uscirà ora, ma dopo l'estate, lo sai, l'estate si lavora, quindi preferisco fare prima l'estate e poi farlo uscire. E' tutta una sorpresa, però bolle qualcosa in pentola. Mmm, non vediamo l'ora di mangiare a questo punto. Speriamo di mangiarlo bene. Sicuramente, sicuramente. Vuoi fare qualche saluto in particolare? No, come sempre ringrazio te per la tua splendida presentazione, i fratelli Marigliano e tutto lo staff che lavora per te e per noi. Ma come è pacato, come è tranquillo, come è Lauro. Come è Lauro. Un bacio a te, allora ascoltiamo subito questa bella canzone, vai! Un bacio a te, allora ascoltiamo subito. 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 Un bacio a te, allora ascoltiamo subito.